C'è Francesco Coschizzo? Si è deciso? Ma si, ci stava troppo male, allora si è deciso di partecipare al programma di sperimentazione e schizzi un igosto. Il nuovo sistema di digitalizzazione della coscienza, i Ghost, si è ormai diffuso a livello globale. Sono ormai milioni le persone che hanno intenzione di utilizzarlo. Vi proponiamo l'intervista in esclusiva su Matteo Bernardi. Che c'è? Ancora con questa storia? Ne abbiamo già parlato. Il fatto che ne abbiamo già parlato è un problema risolto? E' proprio questo il punto. Il problema non ha soluzione. Quindi resta un problema mio? Ne abbiamo già parlato più di cento volte Chiara. Perché? Perché facciamo sempre gli stessi discorsi? Chiara del mondo Vuoi una mano? Simpatica. Perché invece di aggiustare quella moto non pensi a risolvere il nostro problema? Chiara, te l'ho già spiegato centinaia di volte. Io ci ho provato, ma ci sono delle leggi della fisica contro le quali io non posso andare. Ti devi accontentare di quello che hai. Quello che ho? Ma io sono un fantasma. Sono un fantasma elettronico. Parliamo di quello che non ho. Io voglio essere una donna. Voglio essere vera. Voglio il mio rossetto. Vuoi un rossetto? Non c'è la touch per quello. Di che colore le vuoi labbra? Il problema non è il colore delle labbra. Io non posso toccare nulla. Come posso sapere di essere viva se non posso toccare nulla? Tutto è un'illusione. La nostra vita insieme è un mare di illusioni. E allora non ci resterà che galleggiare in questo mare d'illusione. Ma io voglio sentire! Voglio sentire! Voglio sentire il calore del sole! Voglio sentire la pioggia su di me! Io ti voglio baciare! Ti voglio graffiarti! Voglio toccarti! Basta! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.